Sono arrivate le prime richieste di accesso agli atti subito dopo l'ufficializzazione della graduatoria per l'assegnazione dei due posti di redattore ordinario che dovrebbero comporre l'ufficio stampa del comune di Caltanissetta. E quindi non è da escludere che a breve qualcuno decida di presentare il ricorso per far valere le proprie ragioni. Attualmente nell'ordine la graduatoria vede, con i punteggi più alti, Pierluca Loporto, Marcella Sardo, Ludovico Licciardello, Lavinia D'Agostino e Cinzia D'Aidone. Negli ultimi anni l'incarico è stato ricoperto dal giornalista Pierpaolo Olivo, tra l'altro dipendente del comune di Caltanissetta. Ma il suo nome non figura nella rosa dei cinque e ci sarà anche da affrontare la questione relativa all'attribuzione di un posto a un interno all'ente. Quella dell'ufficio stampa del comune di Caltanissetta è una vicenda che si è trascinata per anni e sulla quale in passato erano intervenuti anche l'ordine dei giornalisti e l'associazione siciliana della stampa.